E' dettagliato il report sull'economia della provincia di Catania fornito dalla Camera di Commercio in occasione della decima giornata dell'economia. Grazie al report si possono leggere dati che riguardano le imprese della provincia etnea, in particolar modo quante ne sono nate e quante ne sono cessate, che possibilità di sviluppo ci sono e soprattutto come bisogna guardare al futuro. Ed allora cominciamo con ordine partendo proprio dai dati tracciati da Union Camera insieme a Prometea che evidenziano come la ricchezza pro capita al sud rappresenta i due terzi della media nazionale, ma che la domanda interna registra un calo dei consumi soprattutto al meridione. Il reddito disponibile pro capita delle famiglie in Sicilia ha un valore medio di 12.673 euro e Catania è nella media regionale con 12.204 euro. Secondo l'analisi di Banca d'Italia, la ricchezza lorda delle famiglie italiane nel 2010 era pari a circa 9 miliardi di 525 milioni di euro e al sud Sicilia compresa la ricchezza netta e le famiglie si concentra maggiormente con percentuali superiori al 72% nelle attività reali, terreni e fabbricati. Al 31 dicembre 2011 il tessuto imprenditoriale catenese è costituito da 82.380 imprese attive su un totale di 100.973 imprese registrate. Nello specifico il commercio con le sue 29.458 imprese rappresenta il 35.76% delle imprese attive e del settore economico con la maggiore concentrazione imprenditoriale. Segue l'agricoltura con oltre 15.000 imprese che rappresentano il 19.11% dello stocco imprenditoriale attivo. Subito dopo il settore delle costruzioni con una concentrazione di 10.314 imprese pari al 12.52% e riesce a mantenere un ruolo significativo nel panorama imprenditoriale catenese nonostante la crisi dell'edilizia. L'anno 2011 ha fatto inoltre registrare la nascita di 7.475 imprese e la cessazione di 6.301 imprese. Il tasso di natalità è stato del 7.45% contro un tasso di mortalità del 6.28%. La nascita di un maggior numero di imprese nel corso dell'anno 2011 rispetto a quelle cessate fa rilevare un tasso di sviluppo positivo pari all'1,17%. Quindi per quanto riguarda le imprese cessate Catania ha registrato il migliore risultato, inferiore di un punto percentuale rispetto al dato della Sicilia e di un quinto di punto rispetto al dato nazionale. Inoltre rispetto al tasso di sviluppo registrato a livello nazionale e regionale entrambi negativi, seppur con valori diversi, Catania è in controtendenza con un tasso di sviluppo positivo. Altra nota positiva riguarda l'imprenditoria femminile. Infatti al 31-12-2011 sono 24.399 le imprese femminili nate e rappresentano il 24,16%. Sulla stessa linea si collocano anche le imprese nate dalla volontà di extracomunitari che si sono stabiliti nella nostra città. Esattamente sono 3.921 queste nuove imprese. Un altro dato positivo riguarda la popolazione in quanto Catania, rispetto ad altre città e del sud, ma anche e soprattutto del nord, ha più giovani. Un fattore importante secondo il Presidente della Camera di Commercio Piero Agen sul quale bisogna investire. Credo innanzitutto che dobbiamo crederci noi come istituzione, come ente, dobbiamo dare fiducia ai giovani. Abbiamo ancora, nonostante tutto, alcuni fattori di vantaggio. Ad esempio, nessuno ricorda che Catania è forse la provincia d'Italia dove la percentuale dei giovani rispetto agli anziani è più alta. Questo è un fattore di crescita e di sviluppo, dobbiamo solo resistere e rilanciare.